La parola è Ampi, associazione nazionale partigiani d'Italia, fondata nel 1944 subito dopo la liberazione di Roma, diventa subito la più grande, anzi l'unica organizzazione di partigiani e partigiane combattenti nella guerra di liberazione. Dopo alcuni allontanamenti seguiti alla logica della guerra fredda, l'Ampi resta comunque la più ampia, la più numerosa associazione dei partigiani d'Italia e lo è tuttora capofila delle associazioni della resistenza e dell'antifascismo ed è stata capace di tramandare la memoria partigiana trasmettendola alle nuove generazioni degli antifascisti e delle antifasciste che oggi hanno il compito in questa associazione e attraverso questa associazione di custodire e propagare la memoria della resistenza a fondamento della Repubblica e della Costituzione è di incarnare i valori costituzionali perché la Costituzione italiana è l'eredità più significativa della resistenza è la resistenza vivente con il suo insegnamento e il suo progetto di liberazione, di diritti, di uguaglianza, di pari opportunità, di lotta alle discriminazioni e al razzismo, di democrazia e di libertà.